Sabato e domenica il Centro Storico di Capaccio Capoluogo sarà in festa con la seconda edizione del Capacciam Street Festival. L'idea è nata un anno fa grazie all'incontro tra l'Associazione Amici del Convento, oggi ADC Capacciam, con Beatrice Baino e Orazio De Rosa, responsabili di Crask e Baracca dei Buffoni. La manifestazione rientra nel progetto 31 Salvi Tutti, finanziato dal Piano di Azione e Coesione 3 della Regione Campania. Anche quest'anno, con il patrocinio del Comune, l'Associazione intende promuovere e valorizzare il Centro Storico di Capaccio con l'arte di strada. La musica, la commedia dell'arte, il circo, forme espressive che renderanno le vie scenario incantato, in cui il pubblico sarà parte attiva e co-protagonista dello spettacolo che ha come tetto il cielo.